che è questo? terza di di dove? sinopoli come si chiama? terza di? non si gira, l'altra parte un abbraccio a tutti i romanisti di terza di, non all'aziale del mister Sarri, io penso che se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Slavia, non io, il modo come il mister ha parlato è come per dire che che Slavia è una squadra senza qualità, io rispetto sempre i miei avversari, ho detto già che che Slavia è un'ottima è un'ottima squadra e magari quello che fa la differenza fra la storia di allenatori e di giocatori è un modo di pensare le partite, magari la differenza fra un allenatore che ha vinto 26 titoli e un altro che ha vinto pochi è esattamente questa mentalità di che ogni partita è una partita seria da giocare e che non ci sono amichevoli. Per la dichiarazione del mister Sarri mi piacerebbe anche sentire la reazione della liga della Serie A, perché è stata una critica diretta e obiettiva, aspetto. Grazie.